Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo della trasmissione 8 e mezzo e parliamo della Presidente del Partito Democratico, Valentina Cuppi, sconosciuta fino a qualche giorno fa. Voi avete mai sentito Valentina Cuppi? Mai sentita. Avete mai sentito parlare di un Presidente del PD? No, si è sempre parlato del segretario del PD, segretario politico. Ma nel PD hanno un Presidente, un Vicepresidente, un segretario e un Vicesegretario? Insomma, forse c'è un po' troppa confusione. Che serve un Presidente? Insomma, adesso viene invitata anche in televisione da Lilly Gruber a 8 e mezzo. Indovinate, Lilly Gruber, faziosa di sinistra, invita la Presidente di un partito in autodistruzione. Di chi parlano? Parleranno del partito? Parleranno della sinistra? No, parlano di Giorgia Meloni, come unica voce dell'opposizione. E Lilly Gruber ricorda la contrarietà di Giorgia Meloni, appunto, alle nuove restrizioni contro il coronavirus. E qualcuno non la prende bene. E così è Valentina Cuppi, Presidente del Partito Democratico. Dicono, non so in quale mondo vive, pur di racimolare qualche voto, esordisce criticando le ultime parole di Giorgia Meloni. Lei non sa in quale mondo vive. intanto Fratelli d'Italia non voleva le limitazioni eccessive che il governo di Mario Draghi ha varato. La Meloni ha comparato il nuovo Premier a Giuseppe Conte. Avete visto, ho fatto un video sulla fotografia dove dice, trova le differenze dove quello che sta facendo Draghi è uguale a quello che sta facendo Conte. In realtà sono uguali sotto molti aspetti, ma con delle differenze, che io vi ho fatto notare anche nel video proprio appunto precedente. E così su Twitter Giorgia Meloni dice da Draghi Ci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a Conte, ma le nuove misure restrittive decise oggi sono in perfetta continuità con la strategia fallimentare adottata dall'inizio dell'emergenza Covid. Il governo continua a chiudere attività come ristoranti e palestre invece di potenziare trasporto pubblico. Impedisce di andare a scuola anziché mettere in sicurezza anziani e persone fragili. Non investe come dovrebbe su assistenza domiciliare e terapie nella fase precoce. Una dura accusa di Giorgia Meloni che non è assolutamente nuova. Ma durante questa puntata del 12 di marzo, sulla 7, la Cuppi, sconosciuta fino a qualche giorno fa, deve fare i conti anche con il nuovo segretario del PD. Dice, ma diventerete tutti lettiani ora, da Letta, Letta, Lettiani. Chiede la Gruber con un tono ironico, sarcastico, un po' così. Dice, non è una questione di diventare lettiani, ma di unirsi. Sarà, ma per il partito è ancora di più per Enrico Letta, si preannunciano già tempi duri. Perché la Cuppi, o come si chiama, dice, è questione di unirci. Disuniti, questione di unirci. No, non è questione di unirci. Unirsi è un qualcosa così di veramente superficiale. Perché Zingaretti è stato chiaro. Il partito è da vergognarsi. Pensano solo alle poltrone. Vuol dire, dentro quella frase, che non c'è nient'altro che pensare alla ripartizione dei posti di potere, che poi corrispondono anche a uno stipendio. È un partito vuoto, una scatola vuota. Tu metti Letta, metti Zingaretti, metti chiunque. Ma se il partito non cambia, rimane una scatola vuota, non si va da nessuna parte per il PD. Quindi non c'è questione di unirsi o non unirsi. E poi la Gruber invita questa presidente, che non ha un ruolo realmente politico, è essere più un ruolo amministrativo, della gestione, dello stabile, dei dipendenti, della luce, il telefono, il gas. Insomma, il presidente del PD è come presidente di una società. Di una società PD, dove ci sono le entrate economiche, le uscite. Ecco, è il presidente di una società, non è il segretario politico, se no non avrebbe senso il presidente. Ma nel loro statuto c'è qualcuno che deve far quadrare i conti nel partito. Mentre per quanto riguarda Giorgia Meloni, Giorgia Meloni è della stessa linea identica di Salvini, di Forza Italia. Quelle di fare, sì, delle misure restrittive, ma di un certo tipo, in un certo modo, non indiscriminatamente tutto chiuso. Quindi Giorgia Meloni dall'esterno è più libera di criticare, mentre dall'interno Giorgetti e Forza Italia, come avete visto in un video precedente a questo, si sono opposti in consiglio dei ministri, ma non c'è stato nulla da fare. Questa volta Draghi ha ascoltato gli scienziati e non ha voluto comunque in questo caso assecondare il centro-destra. Fino adesso ha sempre ascoltato Salvini, più o meno le cose che ha chiesto Salvini sono state poi fatte da Draghi, magari in maniera leggermente diversa, ma sono state fatte. Questa volta non c'è stato niente da fare. Mario Draghi non è che ha ascoltato la sinistra, perché c'era Speranza, Franceschini col PD che erano per le chiusure, rigorosi. Diciamo che ha ascoltato i medici, non ha ascoltato i partiti. Bene, questa è la situazione, però vediamo che naturalmente un partito come quello di Giorgia Meloni che arriva al 18,5%, alcuni sondaggi dicono che c'è stato il sorpasso al PD, altri dicono che praticamente sono quasi alla pari, ovviamente l'argomento, al posto che essere quello solito Salvini, 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 adesso l'argomento è Giorgia Meloni. Ecco, quindi Giorgia Meloni entra nelle grazie, degli uomini e le donne di sinistra, ovviamente certo non per parlare bene di lei. Quindi secondo la presidente del PD, Giorgia Meloni farebbe tutto questo per racimolare qualche voto. Beh, insomma, se lei è convinta di questo, contenta lei. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook dove trovate tutti i video che ci sono su Teleitalia e su Teleitalia Seconda Rete, l'altro canale che c'è qua su YouTube, dove vi invito ad iscrivervi. Mentre qui nella community di questo canale trovate anche tanti sondaggi ai quali poter partecipare. Siamo poi anche, come vi dicevo, se volete tra una ventina di minuti trovate un altro video qua disponibile nuovo sul canale. Arrivederci a tutti.